Ciao amici di Tariato Games, ve l'avevo promesso come usciva il gameplay trailer di EA Sport FC24, lo avremmo analizzato insieme. Allora, ci sono molte sequenze ancora di cutscene fuori in game, ma qualche sequenza in più di gameplay finalmente si vede e ci sono tante novità da scoprire. Quindi, premo subito play e andiamo subito a vedere. Ti diamo il benvenuto in EA Sport FC24. Mi chiamo Teams e ci sono i vari esperti del team di sviluppo, Sam e Cancio che ci racconteranno un po' di questi tre aspetti del gameplay. Parleremo delle tre tecnologie, anche grafici. Livello di realismo calcistico, Hypermotion 5, stili di gioco, il nuovo motore, Frostbite, nuovo relativamente. Non perdiamo altro tempo, dunque. Mi sembra opportuno iniziare con Hypermotion 5. Intanto qui segna chiesa. Allora, cosa significa la 5? La V indica la tecnologia di cattura volumetrica, non è quindi 5, è qualcosa di rivoluzionario. Questa è una delle più grandi novità del gameplay e credo se il mio modo migliore è il parlare sia con una dimostrazione. Allen, un gol fantastico. Ricordate quel gol di Allen contro il Dortmund nella Champions League dello scorso anno? Ora abbiamo quello stesso movimento nel gioco e adesso lo vedremo anche veramente in game, da non crederci. Eccolo. Tac. Questa è la magia di Hypermotion 5. Hypermotion V definisce completamente l'elaborazione dei movimenti leari attraverso la cosiddetta tecnologia di cattura volumetrica. È stato il nostro sogno il cassetto per diversi anni e la possibilità di acquisire i movimenti direttamente ai giocatori reali. Qui vediamo un rigore. Dei fogliocassi ai tornei più importanti in assoluto. E questo è in game. Ma come può accadere davvero? Ci sono varie telecamere in stadi reali posizionate tutte intorno al campo. In queste grandi partite giocate davanti ai migliori tifosi, ecco un altro rigore, riusciamo a catturare i movimenti dei giocatori. E questo è in game. Quindi vi stai dicendo che sia in una partita e anche nel gioco. Sì, incredibile. E qui vediamo un'esultanza. Queste nuove emozioni saranno presenti in tutto il gioco assolutamente. Abbiamo rieglavorato passaggi, tiri, contrasti. Parliamo di centinaia di nuove emozioni mai viste prima. Movimenti che rendono il gioco più realistico che mai. Soprattutto le azioni innamorabili che sono un fuoriclasse in una partita competitiva in grado di realizzare. Clicca di riscaldentro, un gol, un gol. L'esultanza qui è d'obbligo. Quindi se per Motion V usa la cattura volumetrica a campionati come la Premier League e la World Cup Champions League, significa che queste stelle saranno più realistiche nel gioco di quest'anno? Assolutamente. Presente mi scatta Haaland. Eccolo. Nessuno al mondo si muove come lui e quest'anno possiamo usare i suoi dati volumetrici per ricreare il suo stile di corsa in un modo ancora più realistico. E non solo. Grazie per Motion V, sostanzialmente, siamo passati ad avere una decina di stili di corsa unici, ad averne oltre 1200. E con questi dati reali ogni giocatore è unico nel suo genere. Il gioco funzionerà in questo modo. Se giochi in Manchester City e Liverpool, ogni giocatore correrà in modo direttamente diverso dagli altri. Davvero incredibile. Esatto, non sarà soltanto le volte di copertina come in passato, ma per chiunque scende in campo. Allora, qui un attimo direi di recuperare. Chiunque non credo. Diciamo i giocatori più importanti, i campionati più importanti, ma non so se ad esempio la Serie A sarà come la Premier League, ad esempio. Però, indubbiamente, ci stanno dicendo che ci saranno molti più giocatori con uno stile unico, diciamo. Qui volevo far rivedere questa sequenza di gameplay e anche questa. Come in passato, per chiunque mi sembra un po' eccessivo. Wow. Quindi dice che Hyper Motion V inflisce sull'accelerazione. È tornata la prolungata, certo. Ma con Hyper Motion V abbiamo registrato il doppio degli archetipi di accelerazione. Quindi più unicità e tratti distintivi, come nella vita reale. Incredibile. Questa è solo la prima grande tecnologia nel gameplay realistico di FC24. So che potremmo parlarne ancora a lungo e in modo più approfondito. Perciò passiamo alla tecnologia numero due. Parlatemi di questi stili di gioco. Allora, in poche parole, i numeri non possono sempre spiegare tutto. Cioè, ciò che i grandi giocatori sono in grado di fare in campo. Al modo in cui viene i dribbli difensori. O all'istinto in cui Sam Kerr conclude in porta. Bello questo tiro. Gli stili di gioco rappresentano quelle abilità distintive che aggiungono al gioco nuova dimensione. Dimensione legata più al mondo dei giocatori. Se ogni stile avrà due livelli. Stili di gioco e stili di gioco plus. Gli stili di gioco sono le abilità distintive. Che rendono speciali chi gioca. Gli stili di gioco più portano le abilità distintive da speciali a spettacolari. E da dove vengono questi stili di gioco? Proprio come i promotion vi ricaviamo gli stili di gioco dai dati reali. E abbiamo stretto una collaborazione con Opta per elaborare e assegnare certi stili. Ai nostri giocatori rendendoli più realistici che mai. Ed eccole qui. Sprendi. Il tipo di migliorerie vedremo al gameplay. So che molte persone vogliono esempi concreti da te e Sam. Beh, ce ne sarebbero tanti a citare. Personalmente preferisco usare chi ha uno stile di gioco difensivo. Questi stili sbloccheranno il recupero palla in scivolata. Fum. Una novità introdotta in FC24. Chi ha questi stili di gioco potrà eseguire un movimento di intercetto. È un intervento pulito e toglierà la palla all'avversario. Mi ricorda un paio di football, no? Creando l'occasione perfetta per andare in contropiede in porta. Se è uno stile di gioco dedicato alle punizioni avrai a disposizione una linea della traiettoria più lunga. con cui potrai vedere esattamente dove finirà la palla. Ho anche i tiri potenti. Il tiro potente è una nuova meccanica introdotta lo scorso anno e quest'anno il suo stile di gioco porta la meccanica a un livello superiore. Raggiungi più velocemente la palla, la calci come il razzo, sì, è il mio preferito. Wow, è incredibile. Quanti stili di gioco? C'è un numero preciso? In totale ci sono 34 nuovi stili di gioco in FC24. Che coprono tutti gli aspetti. Ciò che più mi piace è che definisco i tratti alla base di ogni protagonista. E la runiricità dando loro alle movenze delle caratteristiche davvero realistiche. Provo a indovinare. A forte di testa, tiro acrobatico e tiro potente. Troppo facile. Chi è? Alland. Credo sia il tuo giocatore preferito. Alland giusto? Alland, Alland. Alland un gol fantastico. Non si tratta di una sola fase del gioco. Pensi si ripercuote su attacco, difesa, centrocampo, ovunque. Assolutamente come il semplice di precisione con Son. Il dribbling rapido con Vinicius, il tiki-taka con Bellingham. Marte e Teane hanno una combinazione di stile di gioco fantastica. Le dribbling e finalizzazioni. In pratica chiunque tu preferisca. Avrà una combinazione di stili di gioco unica. E che definisce il suo modo di giocare. Vedremo questi stili di gioco in tutte le modalità? Sì, certo. Serviranno a rendere il tuo pro in club più speciale. A creare l'altimente imperfetto. Permettendoti anche di personalizzare il tuo giocatore nella carriera giocatore. Facendo in modo che giochi esattamente come vuoi tu. Fantastico. So di avere le capacità reali per essere illusionista. Ma vorrei lo stile di gioco più illusionista, credo. Io dico lo stile di gioco mastino. Non hai l'aria di un mastino però, sei un pezzo di pane. Voglio solo schiacciare gli avversari senza farmi superare da nessuno. Bene, questo ci porta alla tecnologia nel trittico di quest'anno. Cosa potete dire al pubblico a proposito del nuovo motore di gioco Frostbite? Come tutti l'hanno notato durante questo approfondimento. FIFA e gli esporti. Non è mai stato così bello. Gioia per gli occhi, corporatore degli atleti, volti, luci. In effetti è vero. In campo il modo in cui il tessuto delle divise si sposta ed aderisce. Esperenze visive che affrontiamo vanta ancora più dettagli e realismo. Oltre a qualcosa che non ho mai visto prima. Incredibile. So che vogliamo tenere alcuni di questi dettagli in serbo per la presentazione. Ma speriamo di aver mostrato abbastanza da mandare tutti in fermento. Beh, di certo mi vedo l'ora di iniziare a giocare. Vi ringrazio per averci illustrato il dettaglio. Hypermotion 5 e anche il nuovo motore Frostbite. È stato un vero piacere. Grazie per l'invito, Timsy. Ci vediamo presto per ulteriori approfondimenti. Benvenuti nel club. Ragazzi, che dire? Che questo è FIFA 24. Per farla breve. Hanno dovuto cambiare il nome, ma questo è FIFA 24. Sotto non c'è quel cambio particolare che qualcuno forse si immaginava. E Sport ha dovuto cambiare il nome perché non ha più l'accordo con FIFA, ma questo è FIFA 24. Vedo migliorie. Grafiche soprattutto. Grafiche soprattutto. Gli spalti sono eccezionali. La qualità delle texture, delle cutscene è straordinaria. Visivamente è bello anche in-game. Mi sembra una evoluzione di FIFA 23, non una rivoluzione. Insomma, è il nuovo FIFA, per farla breve. Niente di più e niente di meno. Vedremo il gameplay. Abbiamo visto l'intercetto, che mi ricorda qualcosa. Insomma, io direi che siamo sulla strada del FIFA 24, bello e buono. Nel bene e anche nel male. Ovviamente, per quelle che sono, o almeno secondo la mia opinione, sono alcune caratteristiche in-game che a me, che io personalmente, non gradisco particolarmente. Poi ognuno è libero di avere la sua opinione. Però sicuramente non vedo neppure quello che si era detto di un gioco più arcade, come si era detto. Almeno così. A sensazione mi sembra un FIFA 24, come sarebbe stato se si fosse chiamato FIFA 24. Cioè, un'evoluzione di FIFA 23, ancora più bello da vedere, ancora più opzioni, ancora più licenze, tante cose in più, ma un gameplay simile a quello di FIFA 23, anche in questo caso, lo ripeto, nel bene e nel male. Staremo a vedere. Ovviamente queste sono le mie impressioni da quel poco che si è visto. Poi c'è da provare il gioco pad alla mano e quindi staremo a vedere. Per il momento la sensazione è questa. Si chiama FC 24, si legge FIFA 24. Non vedo né questa deriva arcade né un cambiamento rivoluzionario della serie. Mi sbaglierò, può essere che mi sbaglio, giocando ci cambierò idea. Ho detto, queste sono le mie impressioni da questo approfondimento sul gameplay ufficiale. Quando avremo modo di giocarci, ovviamente vi dirò la mia a pad alla mano, che è la cosa più importante. Però, siccome conosco FIFA 23, conosco FIFA 22, FIFA 21, 20, 19, eccetera, eccetera, la sensazione è che non ci sia stata una nuova linea temporale, come si suol dire, un metaverso che si apre. La linea mi sembra quella tracciata dai 31 anni di tradizione di FIFA, soprattutto quella degli ultimi anni, e che con FC 24 viene portata avanti, cercando ovviamente di migliorare il prodotto. Staremo a vedere ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Vi do appuntamento stasera al campionato di football e poi a domani con altre novità ulteriori. Ciao!